E adesso, signorina, la dichiaro in arresto. Levamela, eh. No. Dai, levaci. No. Dai. Dai, liberami, sì. Liberatemi, aiuto. Liberatemi, sì. Bastardi, lasciate stare il mio amico! Ma cosa sei schermo? Vai via. Non si tocca, non dire niente. Parla, gesti. Sono su di sopra, insomma. No, no, vai via. Oddio, non trovo più le chiavi. Chi è? È una mia amica, vai via. Ah, è una tua amica! Stai correndo un grosso rischio, Felix, vai via. Oh, non le trovo proprio. Oh, Nicoletta! Germana! Cosa c'è qui con l'Oscar? Indovina? Stavamo piastrellando il bagno. Germana, ma quanto tempo, come stai? Molto meglio, sai? Bene, si intenta. Senti, mi aiuteresti a cercare le chiavi? Sì, ma certo! Ma sai che non ho capito? Ma perché ti odio così tanto? Perché ho deciso di rovinarmi la vita, eh? Perché ti ho fatto entrare nella mia vita? Perché? 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 Questo Peng, mentre ne succederebbe andare qua la giornata. È molto trancato. Grazie.